Ottobre. Acquisgrana. I crucchi combattono come pazzi perché è la prima volta che una loro città viene invasa dagli alleati. E non sarà l'ultima. Dopo la liberazione di Parigi pensavamo di tornare presto a casa. Ma i nostri guai erano appena iniziati. Adesso combattiamo in una città, Acquisgrana. Se i crucchi ci tengono tanto c'è un buon motivo. È la chiave per sfondare il loro fronte occidentale. Davis ci fa avanzare quartiere per quartiere, casa per casa. Per snidarli tutti, dice. Tarnan e Pearson non si parlano da quando siamo arrivati qui. La fatica inizia a farsi sentire. Un amore. Vediamo che succede. Ancora fagioli e proiettili. Se io ti dico di farlo, è quella la cazzo di missione. Ehi, datevi una mossa. Vi voglio pronti entro il tramonto. Ehi, è arrivata questa. Dalla tua ragazza. Ti avevo detto di non frugare tra le mie cose. Come si fa a non aprire una letterina così bella? Soprattutto se pensi che l'abbia mollato. Vedi l'indirizzo? Ha scritto Daniels, non Red. Significa solo una cosa. Mi dispiace, secondo me ti molla. Ehi, forse è come la lettera di Schrödinger. Hai presente? Se non la apri, è ancora la tua ragazza. Ehi, forse è la lettera di Schrödinger. Basta, stronzate! Domani attacchiamo il teatro statale alle 7.30. Tutti quanti hanno un limite. Tutti quanti. Vero o no, Esa? Poter credere che Miamia ancora mi darà la forza. Dai, andiamo! Andiamo, Daniels! Preso! Giù la testa! Merda, noi li ammazziamo e quelli continuano ad arrivare. Presto ci strapperanno la piazza! La figlieria è in arrivo. Dicono 10 minuti al massimo. Non li abbiamo, Tenente Turner. Ci servono subito dei carri. I carri ci coprono il fianco. Stato un po' zitti e fatemi pensare, cazzo! Non c'è tempo per pensare! Ehi, Daniels! Due Aiello con Pearson a chiedere supporto. Forza! Ok, andiamo. Ehi, copertura! Daniels, il telefono da campo! Vado! Persegno, a ore 1. Daniels, il telefono! Ecco, sergente! Darkwood White 2-7 a V-Lane. Siamo sotto attacco. Serve supporto immediato sulla linea 2. Basto! Ricevuto! Ma così lasceremo il fianco esposto. Muovete il culo e venite qui il prima possibile! Agli ordini! Arriviamo! E fate presto! Quei pack ci fanno a pezzi! Passo e chiudo! Ok, ragazzi. Ci spostiamo allo Stadttheater. Il primo plotone in i guai. Posizioni nemiche sconosciute. Passare a radio e interfono. Radio accesa! Repson, noi andiamo a destra verso il teatro. A destra. Ricevuto, Perez. Abrams, Paul, restate qui con il secondo plotone e difendete il fianco fino al nostro ritorno. Ricevuto! Affermativo, Perez. Massima attenzione e occhio ai nemici alle finestre. Ok, Repson. Andiamo. Ehi, vedo movimenti. Lato destro. I nostri al teatro sono nella stessa nostra situazione. Appena spaziamo via i tedeschi ne sfondano fuori altri. Siamo nel loro territorio. È tutta un'altra storia. Se vogliono un massacro è quello che avranno. Non hanno speranze contro di noi. Ma loro sono convinti del contrario. Squadra Panzershank! Ricarico! Pronto a far fuoco! Panteria tedesca. Armi leggere. Stanno attaccando i nostri. Fuoco a volontà! Fuoco! Lancia tutti i nemici davanti a noi! Ricarico! Lanciatori nemici in alto! Panzershank destra! Ricarico! Squadra Panzershank a destra! Facciamo fuori tutta la panteria! Non resteremo troppo esposti! Dagwood White 2-7 a V-Lane! Dove siete finiti? Arriviamo! Incontriamo resistenza sul vostro fianco ovest! Passo! Svelti Perez! Passo e chiudo! Repson! Stanno attaccando il primo Plutone! Siamo quasi arrivati! Vai avanti! Repson rallenta! Non ti vedo! Cattedrale in vista! Siamo quasi arrivati! Panzer! A destra! A destra! Repson! Incentio! Ai portelloni! Merda! No! Merda! Fuori! Fuori! Repson! Peres! Il Panzer è inattaccabile brutalmente! Accettiamolo! Ricevuto! Faccio un giro! Stategli alla larga! Ci hanno colpiti! Colpo perfetto! Niente! Colpo inefficace! Ricarico! Veicolo nemico distrutto! Repson! Rispondi! Repson! Mi ricevi! Merda! Repson! Perdonami! Aggiusta un po'! Andiamo! Si sale! Carro! Carro! No! Non vai! Attiriamolo! Dobbiamo capirlo ai bianchi! C'è un altro Panzer anche qui! Ci hanno colpiti! Ricarico! Nessun danno! Carro a sinistra! Ci vedono! Dobbiamo muoverci! Ci dannetano! Dobbiamo muoverci! Siamo troppo esposti! Il carro ci attacca a destra! Panzer! Tanto destro! Il ricarico! Tenetevi fuori portata! Così non resisteremo a lungo! Gran colpo! Veicolo a sinistra! Carro a destra! Dobbiamo muoverci! Siamo troppo esposti! Siamo troppo esposti! Dov'è finito il nemico? Dobbiamo trovarlo! Colpo perfetto! Ho peccato il bastardo! Il Panzer è ancora qui in giro! Dobbiamo distruggere quell'ultimo carro! Attacco frontale inefficace! Siamo a sottotiro! Carro! Carro! Non vada! Attiriamolo! Dobbiamo colpire con i fianchi! C'è un altro Panzer anche qui! Colpo diretto! Colpo in canna! Dobbiamo muoverci! Siamo troppo esposti! Colpo a sinistra! Lato a sinistro! Ci hanno colpiti! Siamo un bersaglio troppo facile! Ci danneggiano! Ci vedono! Dobbiamo muoverci! Fianco colpito in pieno! Non vedo i carri nemici! Carro nemico fuori uso! C'è ancora quel Tiger da distruggere! Dobbiamo distruggere quell'ultimo carro! Sparano da destra! Occhio a piatto destro! Non li vedo! Veicolo a sinistra! Non vedo i carri nemici! Colpo diretto! Ottimo! Colpo in canna! Dobbiamo muoverci! Siamo troppo esposti! Dov'è finito il nemico? Dobbiamo trovarlo! Gran colpo! Non lo so! Non vedo i carri nemici! Centrato! Distrutto! Risaliamo all'altura da dove è arrivato il Tiger! Il teatro deve essere oltre la salita! Doug Wood White 2-7 a Villain! Non resisteremo ancora molto! Villain a Doug Wood White 2-7! Rapson a terra! Siamo rimasti solo noi! Stiamo arrivando! Andiamo! Si sale! Faccio qualche riparazione! Il teatro è appena dietro l'angolo! Distruggete quei bacchi che colpiscono il teatro! Ecco il teatro! La squadra di Turner è nella merda! Perciò il corazzato di Nesco! Distruggiamo subito quel Panzer! Mi cadengono! Un Panzer che ci corpisce dall'avanti! Così! Non resisteremo a lungo! Ricarico! Carro nemico distrutto! Veicoli nemici in arrivo! Distruggeteli! Batteria e Panzer Shrek! Appartamenti! Davanti! Stanno scappando! Addosso! Manca poco! Dobbiamo eliminarli tutti! Lanciatori dei vici davanti a noi! Ricarico! Qualcuno vede altri bersagli? Negativo! Vedo che qui abbiamo un tibito! Tutti sistemati! Villen a Dagwood White 2-7! Piazza libera! Ripeto! Piazza libera! Grazie per l'aiuto, signore! Dagwood White, chiudo! Ok! Perez resterà in posizione al teatro per coprirci il fianco! Noi dobbiamo avanzare verso l'hotel Allendorf senza supporto accorazzato! Andiamo! Bene, facciamo! E' un albergo in mano ai nazisti da settimane! Preso quello, anche la città sarà nostra! Con qualche carro armato sarebbe tutto più semplice! Perez deve difendere la posizione! E può farcela... Ehi! Mi lanci un fumogeno di segnalazione! Non adesso! Non ci sono nemici! Non ci sono nemici! Attenti in alto! Occhio alle finestre! Attenti a quei negozi! Non mi piace, troppo tranquillo. Stiamo allerta. Calma, state al riparo. Vitragliatrice, via! Avanziamo e troviamo un varco! Avanziamo! Staggart è stato colpito! Muoversi! Non posso camminare! Negozio, dentro! Dentro! Nemico individuato! Menozio, state al riparo! State al riparo! Tieni duro! A posto! Grazie! Sempre avanti! Daniels, ha munizioni! Imboscata, al riparo! Musica! Si sta muovendo! Ehi Daniels! Via libera! Scordiamoci le scale. Di sicuro non possiamo andare in strada. Questo muro sembra debole. Daniels, colpiscilo con il lanciatore. Mi servono altri colpi. Tieni, soldato. Daniels, apri un barco con il bazooka. Fin dietro. Vedo movimenti. Truppe, nemiche, fuoco! Kit medico, qua! Sempre avanti! Mi serve un kit! Ecco a te! C'è il piccolo! Può aversi! Nemico individuato! Sempre avanti! Daniels, segnale i bersagli per i mortali! Muoverci! A secco, ricco di bo! Empruvate! Sbricchiamoci! 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 Ok, via libera! Occhi aperti! Ci siamo! L'ultimo baluardo tedesco! Daniels, diamo un'occhiata! Signor sì! Sembra tutto tranquillo, e la cosa non mi piace! Daniels, cosa vedi? I cieli sono sgombri! I nostri hanno finito di bombardare! Ti godi il panorama, soldato? Cosa stai guardando? Contatto visivo con l'albergo Non vedo truppe sul balcone Né altrove, se per questo Devono essere dentro a rinforzare le difese Vogliono giocarsi il tutto per tutto Allora riusciremo ad avvicinarci senza troppi problemi Appena attaccato l'albergo, dovremo prepararci al peggio Primo occupiamo l'appartamento Forse i cruchi sono là dentro Dopo averlo ripulito, avanziamo verso l'albergo Informazione! Daniels, Jusman, davanti! Andiamo! Occhi aperti, in quegli appartamenti potremmo trovare parecchi nemici Forse in tutti e due gli isolati Lancia qua! Sei al limite massimo Via libera! Avanzare! Occhi aperti! Daniels, serve di nuovo il lanciatore! Occhio all'esplosione! Via libera! Avanzare! Occhi aperti! Daniels, serve di nuovo il lanciatore! Occhio all'esplosione! Occhio all'esplosione! Non vedo niente! Ecco i tedeschi! Facciamo lì fuori! Non si passa! Dobbiamo eliminare i cruchi! Non li vedo! State giù! Il fumo si tirada! Pronti a sparare! Sì! 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 E arrivano altri! Giù! Sì! 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 Non ho scelto! Ricarico! Sì! 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 Il cranio ha perforato il cranio! Hey Daniels! Ho granate fumogeni! Sì! Via libera! Raduniamoci qui! Rogers, va avanti e controlla la prossima stanza. Signor C! Porta bloccata! Dobbiamo infilarci dentro uno alla volta. Sembra molto stretto. Non so se ce la faccio. Ti dicevo di metterti a dieta. Molto simpatico. Daniels, tocca a te! Merda, merda! Aiuto! Aiuto! Tutto a posto? Grazie! I crubi sono dappertutto. I crubi sono dappertutto. Uso la granata! Ha un fucile cadavista! Ah! Ah! Cicca! Faiting in my feet! We kept you in a fight form of yours! Versaglia ore undici! Ah! La Nordove, centro! Gritto in testa! Nemici in arrivo da Nord! Ho munizioni da darti, soldato! Appartamenti sul lato sinistro! Signore, mi servono munizioni! Ho qualcosa per te, soldato! No! No! Sì Qui ho granate e fumogeni! Ok! Tutto a posto? A posto! L'albergo è là! Teniamo un basso profilo! Ok, andiamo! Giù per le scale! Qui, qui! Subito! Qui ho granate e fumogeni! Me li segnali, sergente! Che cazzo ti prendi? Qui non ci sono nemici! Prendi, Daniels! Quel camion ci blocca la strada! Spostiamolo! Aiello! Molla il freno esterno! Tutti gli altri a spingere! Va bene! Daniels, devi aiutarci! Porca puttana! Come in buono stato? È carburante! La batteria funziona! Può darci un passaggio! Tenete! Forse riesco a metterlo in moto! Chi l'avrebbe mai... Ok, andiamo! Pronti, ragazzi! Daniels, un altro muro! Abbattilo! Facciamo piazza pulita, ok? State lontani! Pronti! Può versi! Dobbiamo occupare l'atrio! Siusman a destra! Aiello a sinistra con me! Stiles al secondo piano con Pearson! Ricevuto! Subito! Ti vedo alla scala principale! In fondo! Mitragliatrici sulle scale! Provate a circonderli! Merda! Sono dappertutto! Siamo in fondo! Siamo in fondo! Siamo in fondo! Siamo in fondo! Fesciamo in fondo! Mannagliati! Potremo raggiungere il colpunto dietro le scale! Valval! Abbassiamo! Abbassiamo! Abbassiamo in fondo! Daniels, andiamo al corridoio sul retro! Daniels, dobbiamo raggiungere il corridoio dietro le scale! Daniels, andiamo al corridoio sul retro! Daniels, andiamo al corridoio sul retro! Daniels, andiamo al corridoio dietro le scale! Daniels, andiamo al corridoio dietro le scale! Daniels, andiamo al corridoio sul retro! Daniels, andiamo al corridoio sul retro! di sotto a trio libero spero che siano tutti tutti con turner ho un chico medico i piani alti a noi tocca lo scantinato con me ranghi serrati ehi stai ho trovato un nascondiglio per te fa il culo basta daniel la porta luci sembra una bambina qualcuno ha del cioccolato signor si avrai fame dai prendi tranquille tranquille niente paura niente paura no mangiare mia sorella aiuto per favore no no i rinforzi nemici saranno qui a momenti non possiamo fare da balia dei civili sono soltanto in due signore venga qui a vedere ah davvero grandioso merda quel camion che abbiamo trovato prima lo portiamo qui e facciamo evacuare con tutto il rispetto la nostra priorità è l'albergo parli tedesco quando cazzo pensavi di dircelo mai porteremo in salvo questa gente daniels aiello tornate a prendere quel camion ci vediamo al lato ovest dell'albergo muoversi chissà cos'altro ci tieni nascosto erzi usman non si preoccupi sergente ah invece mi preoccupo soldato e come adesso toccano i due deniers usman poteva dirlo che sa parlare tedesco viene da una famiglia di ebrei tedeschi non vuole che si sappia delle sue origini tutti abbiamo qualcosa di cui non siamo fieri perché dobbiamo sbatterci così per quei crocchi c'era una bambina e degli anziani non possiamo salvare tutti sono civili li porteremo in salvo è nostro dovere ecco il camion andiamo ok dammi un attimo per accendere questo affare bene ti copro le spalle movimenti in quegli edifici dall'altra parte mettilo in moto non ho mai guidato un camion tedesco mettilo in moto non ho mai guidato un camion tedesco sono allo scoperto eh no 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 so appiccino e miccino arrivo appiccino e miccino arrivo appiccino e miccino arrivo al riparo non possiamo stare qui aiello dati una borsa c'è ancora un semi cingolato a destra non ne arrivano più forse si stanno ritirando ok è in moto l'hai messo in moto grazie mille per l'aiuto credo che si stiano raggruppando al lato nord dobbiamo avvertire la squadra dobbiamo portare al sicuro questa gente o difenderci qui troppo rischioso meglio non esporli al fuoco incrociato ormai è tardi fa presto ha ragione Pearson non abbiamo il tempo di occuparci di questa gente sono civili dobbiamo aiutarli va avanti e fermati sulla strada si sergente bene porta fuori i civili forza andiamo forza signore dobbiamo andare arrivano rinforzi ehi dove stai andando cosa ha detto sua sorella è tornata nello scantinato allora ci resterà dobbiamo portare via questa gente andiamo tenente vado io te lo puoi scordare hai due minuti vengo anch'io no solo Daniels è troppo pericoloso mi serve qui a proteggere il perimetro signor si devi fare in fretta ricevuto merda s***** 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 i capi oh c***** devo trovare Anna Deve essere qui da qualche parte. Spero non sia andata di sopra. Ehi, piccola. Andiamo. Ti riporto da tua sorella. Io ho trovato Casper. Vieni. Tu non riesci a arrivare! Ssh, va tutto bene. 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 Casper. Casper, nein. Ssh, va tutto bene. Ssh, va tutto bene. Casper. 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 Sono qui con te! Tranquilla! Si può sapere da dove sbucano! Dobbiamo andare avanti! Andrà tutto bene! Si sistemerà tutto! Tranquillo! Merda! È uno dei nastri! Daniels, dobbiamo andarcene! Portala al camion, ricopriamo noi! Sì, diamo una bella buona! I gruppi si ritirano! Cazzo è Daniels! Daniels, vieni subito qui! Abbiamo preso l'atrio! Atrio sicuro! Anna! Grazie! Ok, ora possono arrangiarsi, andiamo! Li porteremo in salvo, questo è quanto! Pearson ha ragione, se ci riportiamo dietro i cruchi ci attaccheranno! È troppo rischioso! Andato Ziusman, liberiamo questa strada e li portiamo al sicuro! Chiaro signore, però forse sarebbero più al sicuro da soli! E se i tedeschi si riprendono l'albergo? Ogni squadra che passerà di qua sarà in pericolo! Non siamo a Kasserin! Siamo in vantaggio! Voglio tutti sul camion! Agli ordini! Posizioni difensive! Liberiamo la strada! Tiro una granata! Fritz! Ne arrivano altri! Difendere la posizione! FUAK! Fuoco fuoco! FUAK! FUAK! Davanti! Contatto! FUAK! Via libera! Tutto tranquillo! Giardino al sicuro! Strada libera! Ci siamo tutti? Nessuna perdita! Can jemand ein lost farben? Wir einen bräucherno einen gutt. Ah, ich? Ich kann fahren! Herr, komm! Attenzione! Hanno colpito il camion! Erika! Bitte, Erika! Varao! È morta! Andiamo! Via! Che cazzo fai? Eseguo gli ordini! Ripiegare all'albergo! Via! 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 Ehi! Non c'è più niente da fare! Abbiamo preso Acquisgrana e aperto un corridoio verso il Reno. Turner e Pearson sono sempre più distanti. Ma spero capiscano che la guerra avviene prima di tutto.